Il turno di Luca Teodori della lista Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità che appoggia la candidatura di Domenico Battaglia. L'appello al voto. Al centro di tutto vanno poste le persone, vanno posti gli animali, vanno poste le piante. Va posta la vita al centro di tutto. Dobbiamo riprenderci il nostro pianeta per costruire un futuro e un mondo migliore. Lo possiamo fare il 26 gennaio. Da una parte ci sono tutti gli altri e l'unico veramente che vuole il cambiamento la diversità è il Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità. A voi la scelta e soprattutto alla vostra coscienza. Grazie.